Ben ritrovati, introdurre e accompagnare i giovani nella società costruendo luoghi di lavoro per favorire la loro crescita umana e professionale. Con questo obiettivo opera nel territorio marchigiano la cooperativa No Profit Il Pozzo di Giacobbe. Le parole di Roberto Andreucci tra i fondatori di questa realtà. Sì, la cooperativa Il Pozzo di Giacobbe ha avuto come primo luogo nel 2019, a febbraio del 2019, una piccola pizzeria al taglio in Ancona. Il nostro desiderio era quello di iniziare a costruire dei luoghi oggi, quindi proprio oggi, in un contesto socioculturale difficile, di crisi, ma che noi stiamo imparando a vedere come una risorsa, come un'opportunità. Quindi il fatto di poter iniziare ad aprire il luogo in Ancona si chiama Lievita o Lievita, una pizzeria al taglio che al centro ha la cura del lievito madre, la cura del prodotto, dove potessero le persone incontrare un momento di speranza. Oltre con un'ottima pizza anche la possibilità di dire c'è un luogo vivo condotto da giovani che sono sostenuti a poter crescere umanamente, professionalmente e a recitare il ruolo dei protagonisti in questa storia, che spesso sembra essere un po' non accogliente di progetti di questo genere. Invece non è così. Nella forza di una certezza più grande abbiamo deciso di aprire anche a San Benedetto, da primo maggio, l'Osteria di Pesci Lido Azzurro, a lungomare, per cercare di poter continuare ad accogliere un maggior numero di ragazzi e poterli aiutare a vivere l'esperienza lavorativa, sapendo che c'è di mezzo la loro vita, nella loro interezza, ad essere aiutati innanzitutto a rapportarsi con la realtà, e a crescere e a imparare innanzitutto a vivere e quindi a lavorare.